Buongiorno, oggi vediamo come contare in Darija marocchina, dialetto marocchino. Uno, wahed. Due, alcuni dicono zuj, altri dicono zuj. Tre, tleta. Quattro, rabà. Cinque, khamsa. Sei, sta. Sette, seba. Otto, tmenja. Nove, ts'ud. Dieci, asra. Viamo avanti. Undici, hedas. Dodici, tnaš. Tredici, tlettaš. Quattordici, rabatash. Quindici, khmstash. Sedici, stas. Diciasette, sbatash. Diciotto, tmentas. Diciano, nove. Tsaatash. Venti. Acharin. Adesso, vediamo solo inarabo. Wahed. Zuj. Ubiain zuj. Escusate. Uppure zuj. Tleta. Tleta. Rabah. Khemsa. Sette. Sibah. Tmenja. Tsaud. Acharin. 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 Tnaš. Tlettaš. Rbattash. Khmstash. Sittash. Sibah. Tmanntaš. Sattash. Acharin. Eko fattu. Poi vedremo il seguito in un altro video. Se avete delle domande, ovviamente... Sibah. 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 Grazie a tutti.